Le news americane di Beautiful sono tutte incentrate sul bacio romano tra Hop e Thomas. La giovane Logan tradirà il marito. E tutto questo, sotto gli occhi increduli di Liam, giunto in Italia per sostenerla nel grandioso evento legato alla sua collezione, la Hope for the Future. In una recente intervista Brad Bell, produttore di Beautiful, aveva dichiarato che, nelle puntate girate a Roma, si sarebbero verificati degli sconvolgimenti, che avrebbero cambiato per sempre la vita di Liam Spencer. Per la prima volta, Hope si lascerà andare con un uomo diverso da suo marito, che per anni ha conteso con Steffi Forster. In rete, circolano diversi scenari possibili sulle conseguenze di questo appassionato bacio. Tra essi, ve ne è uno veramente funesto, collegato alla morte di un personaggio ed ovvero, a Hope Logan. A quanto pare, il dramma non si verificherà a Roma, bensì in un futuro prossimo in quel di Los Angeles, la città ove è ambientata la nostra amatissima serie. Ad onor del vero, gli episodi registrati fino ad ora negli USA, mostrano la nostra Hope in perfetta forma, raggiante più che mai anche grazie ai suoi successi in ambito professionale. La sfilata di Piazza Navona decreterà il successo della sua collezione, linea che, come spoilerato più volte, ha rischiato addirittura la chiusura, dati i flop registrati negli ultimi mesi a causa della mancanza di originalità. Brooke sarà orgogliosa di sua figlia e, per la prima volta, la vedremo anche elogiare Thomas Forster, voluto fortemente da Hope, nonostante i timori di Liam, come lead designer. Nonostante questo, però, Brooke sarà sempre del parere che Thomas non sia completamente guarito dalle sue ossessioni. Ciò non toglie, però, che sia uno stilista talentuoso e di successo. Anche Steffi sarà felicissima dei risultati ottenuti dalla sorellastra. Non a caso, quando incrocerà lo Spencer a sorpresa a Roma, ci terrà a sottolineare quanto sia fortunato ad avere una donna come la Logan al suo fianco. Dunque, che cosa succederà? Rumors in attesa di conferme ufficiali sul destino della figlia di Brooke e Dicon appaiono a dir poco tragici. Forse la ragazza non si riprenderà dallo shock di aver condiviso un momento di passione con Thomas? Resterà vittima di un incidente? Al momento, navigiamo unicamente nel mare delle ipotesi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.